allora matteo saba esce dalla tana spieghiamo meglio quello che è successo che è successo mi vengono mandati oggi questi screen ecco qual primo ecco qual primo allora pubblica il buon matteone pubblica questa storia oggi ti diamo il benvenuto su trufflix ragazzi trufflix la nuova piattaforma la nuova casa di matteo saba sono stato invitato ad iscrivermi su questo sito sbarra forum che si chiama trufflix chiaramente non è uno questo cioè non l'ha fatto lui siccome tutti gli altri siti che aveva fatto vi ricordate germanominit.com sono stati giustamente abbattuti adesso c'è questo trufflix ma non è opera sua è trufflix ragazzi giustamente lo ripeterà adesso vediamo più volte l'hanno invitato non è opera mia anzi nelle prossime cose che vi fanno vedere l'hanno invitato le voci nella testa no no l'hanno invitato no perché c'è gente che fa ovviamente questi siti no stranamente si chiama trufflix come fufflix sicuramente non è stato lui assolutamente a fare questo tipo di lavoro assolutamente no non è un ritorno non è un ritorno loro mi hanno invitato in questo forum e pubblica anche il link perché ci tiene molto a pubblicizzare gratuitamente ovviamente lui fa sponsor questo è una sponsor stesso layout del sito di fufflix di milite si si ma lui non c'entra niente sarà qualcuno a cui sta sul cazzo germano milite quindi lui non c'entra assolutamente niente quindi rispamma questa cosa andiamo avanti e poi qua succede il patatrack tranquillo che ti conosce questo deve essere un commento di questo gruppo tranquillo che ti conoscono tutti se chiami qualcuno viene preso per il culo io ti ho avvisato questo deve essere appunto il messaggio di un utente e lui scrive in italia è difficile trovare lavoro e quelli che lo hanno dovrebbero tenerselo stretto invece che fanno certi geni diffamano violano la privacy e si rovinano letteralmente con le proprie mani questo è l'ennesimo che pensava di poter giocare a fare l'hacker e invece poi si ritrova con un'indagine interna al posto di lavoro e una denuncia penale già indagato questo già indagato e poi una denuncia penale già fatta ma di ufficio Stefano Tenola qui mette chiaramente il nome ricordati che la responsabilità penale è sempre personale quindi anche se segui una setta come quella di Fufflix quindi capito Fufflix è una setta e anche più la setta i reati li commetti tu questo è vero responsabilità penale e personale appunto quindi anche se segui anche se la commetti tu il posto di lavoro lo perdi tu davanti a un giudice ci vai tu la vita è tua e con me non puoi giocare vi posto un link che tra poco un muscolato vi posto un link tra poco e vi racconto tutto vediamo un po' eccolo lì il doxatore presidenziale chiaramente cosa fa? mette la foto mette la foto chi ha doxato? questo ragazzo che poi ripeto lui dice che l'ha ha provato a hackerare che l'ha adesso non lo so chiaramente la storia ovviamente se questo ragazzo ha provato a hackerarlo comunque ha fatto ovviamente non doveva farlo non è che dico siccome il presidente tutto vale che poi è dall'alto del tuo iPhone XR chiaramente prende per il culo perché c'è l'iPhone non di ultima generazione ricondizionato e comprato a Margellina che non so effettivamente dove sia Margellina ragazzi effettivamente sì sì The King of Dogs sì sì è tornato lui quando torna ripercorre sempre alla fine la serie tv sempre la stessa la solve è sempre la stessa a Napoli ah ok quindi questo è molto grave quindi questa è una sorta di razzismo territoriale questo è gravissimo perché a Napoli si vendono iPhone ricondizionati hai tutta la vita davanti e ti fai licenziare e denunciare per uno che alla fine ti le mosina due lire ce l'ha chiaramente con Germano Milite Stefano dovresti ringraziarmi perché con quello che sta per succedere avrai una duplice lezione di vita quindi deve dire anche grazie perché ha chiaramente messo mettere la sua immagine chiaramente è legito è legito chiaramente se uno anche anche se ripeto mettiamo caso che veramente abbia subito un hacking da questo ragazzo ovviamente può farlo perché nel momento in cui tu mi fai un danno io ti posso sputtanare posso mettere la tua foto ovviamente c'è la legge lo permette ragazzi lo sappiamo tutti la legge proprio dice c'è l'articolo dice hai il permesso di doxare se ti hanno hackerato assolutamente o se ti hanno proprio rotto il cazzo che hacking no 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 ma dico no per dire no ovviamente se tu sei stato hackerato hai tutto il diritto di doxare l'hacker cioè la legge lo prevede quindi è giusto così impara qualcosa di tangibile lezione di vita così da imparare qualcosa di tangibile e da poter mettere in pratica per il tuo futuro nella prossima storia vi metto il link che vi racconto di questo soggetto appartenente alla setta di Fufflix la setta attenzione andiamo avanti ecco cosa succede da commettere illeciti reati sul web e tu lo sai Matteone lo sai cosa succede da commettere illeciti sul web tu dovresti essere il master e verranno segnalati tutti prima su questo forum e ovviamente anche alle proposte autorità tabula rasa iniziamo con Dev ovvero Stefano Tenola l'hacker dei poverelli allora quello che dice Stefano Tenola motivo della segnalazione e diffusione su internet del mio IP pare che questo Dev sia lui tu hai fatto di meglio caro Matteo poi qui vediamo un un come si dice un IP potrebbe essere dei numeri potrebbe essere un IP IP a disposizione del casertano dice questo Dev è una delle costanze di chi segue Germano Milite ovvero andare oltre le leggi qui chiaramente cosa fa lui usa la tecnica che hanno usato anche tanti su di me cioè magari qualcuno se effettivamente questo ha messo l'IP è una cosa che non va fatta ovviamente condanno perché non è che siccome ripeto non è che siccome Matteo Saba si può fare il cazzo che vuoi per cui no quello che volevo dire scusate mi è arrivato un messaggio no non pensavo fosse una roba importante pensavo fosse una roba importante per quello che stavo guardando comunque stavo dicendo ovviamente lui cosa fa c'è questo qui che ha fatto la cazzata perché sto Dev si ha messo l'IP è una cazzata è una cosa che non serve a nulla il signor Matteo Saba come ho già detto ne parlavo l'altro giorno fuori contesto lui dovrebbe pagare ma con la legge non con altre cose non bisogna vendicarsi anche se è un uomo di merda è una persona che ha fatto nel male e che ha truffato tante persone e vabbè non importa dobbiamo aspettare pazientemente i tempi della legge e vedrete che avrà quello che si merita questo è poco ma sicuro o perlomeno ce l'abbiamo provato detto ciò non è che siccome la legge è lenta siccome la legge non funziona sempre dobbiamo utilizzare noi dei mezzi alternativi per fargli la pagata punto comunque utilizza no cosa fa siccome questo dev ha fatto questa cazzata dice ecco vedi questa è cerca di in qualche modo attaccare l'immagine di Germano Milite dicendo questi e quelli che lo seguono però l'hai detto tu prima nella storia precedente no Matteone la responsabilità penale è personale no? l'hai detto tu l'hai detto tu che è personale per cui questo dev prenderà responsabilità di quello che ha fatto se ha fatto quello che dice e Germano Milite penso che non dovrebbe essere neanche menzionato ma perché lo fa? lo fa semplicemente perché lui vuole attaccare Germano fondamentalmente è quello il motivo comunque andiamo avanti ah no beh qui c'è lo sa che in intro lui che chiede una mano per scegliere se andrei Caraibi o nel Mediterraneo giustamente sempre in giro sempre con molti soldi ma andiamo un po' a vedere di cosa si tratta questo Truflix dove sta? ah no qui c'è anche il no qui per tornare al discorso di prima avevo preparato anche questo perché era importante vedete qui è il suo account x x come si chiama? twitter mi hanno invitato su forum Truflix scusate lo spam ovunque nei prossimi giorni farò una live twitch che non si scrive ah no si è solo separato questo è scritto solo twitch così ti caricherò su youtube più video reaction twitch tra l'altro Matteo su youtube devi caricare anche la tua lettera al gabbrone da un po' di tempo quando è che la carichi? stai aspettando il pippega che mette botgate parte 2 o la carichi in contemporanea con questo? eh vabbè anche se è ricaricata su youtube ad un youtube ad un video che mi dicono uscirà brevissimo su Germano Milite e le sue aziende ah quindi esce un video su Germano Milite questo me lo guardo ragazzi finalmente verrà sbucciardato Germano questo forum così come il video in questione non è stato realizzato dal sottoscritto ci tiene a precisarlo no ma io non lo chiedo sto chiedendo per un amico no 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 cioè il fatto del del fatto che 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 di di aiucolazione pregoce lo chiedo per un mio amico non sto chiaramente io non ho questo problema assolutamente lui chiede per un amico non lui no non così che vede in questione non è stato realizzato dal sottoscritto ma sono curioso di analizzare il pensiero sempre più diffuso sul cazzaro casertano ah quindi diffuso c'è una diffusione di pensiero ragazzi ah mamma mia sto hashtag Sanremo Germano Milite Militegate Militegate gli è piacente perché non lo fai sto Militegate Matteone Fufflix Trufflix Insem Nextus Blasterzone Mastino Mastino SRL Militegate Larai Mediaset La7 Sanremo Casa Sanremo Che tagge incredibili Investing Casa Sanremo Invest Fallimento Liquidazione Truffa Carmine Pappagallo questo è il socio che aveva attaccato Tommaso Pappagallo Soldi pubblici Covid c'è anche il Covid giustamente che non basta non guasta mai aiuti di Stato Caserta Aversa Napoli Italia Campania Odg Campania Odg News Trufflix Trufflix più di una volta bisogna mettere bellissimo Militegate ci sono alcuni BGN sei rimasto innamorato di cosa è che oggi non è e non è e domani non è perché domani non sarà mai oggi va bene comunque questa sottolineava una cosa che è importante che avvisiate tutti e lo sapete tutti che non è assolutamente lui che ha fatto questo sito questo è importante ma diamo un'occhiata a questo Trufflix Trufflix scusate Truffapedia un sogno che si realizza per carità il detto che si accontenta gode al suo perché ma deve essere uno che si accontenta ben poco di questo sogno se dopo due giorni riceve una bellezza di 57 like 15 commenti scommetto e questo non lo so di che cosa ah è un post di Germano ok Truffapedia verso il milione di pagine viste di pagine viste il sogno che si concatrida ok questa è una presa per il culo Pierre scrive questo chissà chi è questo Pierre chi potrebbe essere questo Pierre 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 bannato uno che si chiama bannato da Fufflix bannato da Fufflix come Germano milite tratti sui bonati testimonianza di un bannato ah vediamo questo interessante lo scorso novembre rincai seguire Germano milite su Fufflix il suo canale youtube lo vedevo perché lo vedevo come una speranza di giustizia in un mondo quello del web dove chiunque era e tutto oggi libero di truffare il prossimo senza conseguenze mi ricorda qualcuno e dato che condividevo gli stessi obiettivi del canale decisi di abbonarmi i primi mesi scorrono tranquilli con Germano che si dedica prima di divulgare la nullità di Big Luca e poi smascherare un vero e proprio raggiro operato da Luca Valori eccolo qua riconoscendo la qualità del suo lavoro rinnovai senza esitazione il mio abbonamento tutto è cambiato nel mese di gennaio quando Germano ha cambiato completamente la sua linea editoriale da Big Luca a Luca Valori era passato a parlare di Matteo Saba e di una certa opinionista scalza rei di averlo attaccato sui social in sostanza l'attenzione si era spostata dalla tutela del consumatore alla tutela del suo ego personale dare in passo alla sua comunità di persone con le quali aveva avuto dei contrasti web ed era diventato più importante che le denunce quindi questo è un follower deluso capito è un follower deluso che dice vedi Germano ma è strano che tutti insomma adesso io non l'avevo visto buonasera Red quindi sono tutti i post su Germano vediamo Pier di nuovo scrive questo a mio avviso è doppiamente grave perché ah no qui commentano non assumisce francamente purtroppo di Germano Minute è molto più facile comprendere i limiti che sono moltissimi rispetto alle qualità che ad oggi francamente mi risulta difficile elencarle il suo personaggio e il suo progetto necessita di giornalmente di soggetti e aziende di cui parlare per cercare di farlo e mantenere la solida attenzione massima da parte di chi segue i suoi contenuti vedete cioè non so non leggiamo tutti perché se no impazziamo povero Germano Milita dovresti saperlo non è mai colpa sua che barzelletta e lui è lo sfogatoio ragazzi ma torniamo un attimo sulla pagina l'interazione dei post di Milita qui c'è sempre Pier bannato Mirko vediamo dietro tante belle parole si nascondono solo numeri e fallimenti anche questo The Insider che parla di Germano Milita tipo e parla anche questo Mirko parla cioè ma sono solo questi ah no c'è altro c'è altro la serie imbarazzante società di Thomas McCorridge ah ok se la prendono anche con McCorridge Germano Milita Germano Milita annuncia che lo fanno in Perfufflix le consulenze di Milita Germano Milita anche Giovanni Bergamasco la truffa fatta ai danni dello Stato Italiano quanto abbia truffato Germano Milita allo Stato vedi Germano Milita Stefano De Lucchi parla anche lui di Germano Milita incredibile eh questo è un posto su Germano Milita per caso Pier si è un posto su Germano Milita ok commentato la President Club ma quale senso regalare gli abbonamenti a Fufflix io una mia idea ce l'avrei tuttavia vorrei confrontarmi con voi per sapere cosa ne ha pensato a riguardo vediamo vediamo il Presidente se è commentato molti abbonamenti vengono regalati sicuramente su commissione dello stesso Limitless per cercare di indurre altre a donare allo stesso tempo hai capito non ci fai abbonare come De Lucchi come il nostro De Lucchi no ma non è assolutamente fatta del Presidente questa Consob ok la coerenza di Germano Milita qui Luca Valori finalmente Fuffa allo Stato Pura però forse parla anche questo di Germano Milita o no vediamo no forse qua non si parla di Germano Milita si parla solo di Valori incredibile addirittura addirittura incredibile incredibile lui commenta tutto è lupo infinito delle stesse accuse che fa il pelato sì sì no no ma io stavo guardando collaboratore con Frank Merenda ok questo non parla di Milita e ogni volta che non parla di Milita è un successo come Germano Milita tratta i suoi bonati testimonianza di un bannato ah no questa è quella di prima Germano Milita di Insem salve ma quindi Milita e Fuffa una domanda giustamente vediamo come risponde il Presidente molto interessante questo spunto mamma che cringe capito si sono fatti ti sfida a trovare un post senza il commento di Matteo sono 100 vabbè ma lui ha tanto tempo perché ha tanti collaboratori il Modigno mi doni 100 euro se ce n'è uno senza occhio guarda che io li guardo tutti guarda che io li guardo tutti dietro le tante belle parole nasconde i numeri fallimenti però quelli che parlano in Germano Milita è ovvio perché parlano solo di Germano Milita e quindi ovviamente quindi è un sito che assolutamente non è dedicato a Germano Milita come gli altri quindi non l'ha fatto Matteo Saba è un sito dove si parla di ma non c'è una presentazione del sito ah ecco no non c'è una etichette popolari categorie cioè non c'è tipo una presentazione ah questo sito fa questo non c'è vai in utenti recenti come cazzo era e dov'è utenti tutte le categorie presentazioni ah ecco qua aspetta fammi leggere questo benvenuti è il posto giusto per farti conoscere qui su Trufflix parla di te scopri chi condivide i tuoi interessi inizia a fare amicizia amicizia in chat bello basta ricordarsi di essere educati e rispettosi si ho visto truffo online è il posto dove si parla chiaro su chi cerca di ingannarci su internet qui si smascono quei tipi che dicono di sapere tutto promettendo guadagni facili e roba fantastica bello scritto facili o roba fantastica top questa scusate ve lo faccio vedere perché è piccolino non lo vedete fine o roba fantastica che alla fine è solo fumo negli occhi se qualcuno si fa grande senza avere le carte in regola qui lo mettiamo feedback sito è la zona dove ci dici la tua su come gira questo sito web vabbè non ce ne frega crypto scam questo spazio dedicato ok scheme piramide però non c'è scritto che è il sito contro Germano Milite com'è possibile che si parla solo di Germano Milite vabbè utenti ecco qua quello che diceva allora vediamo bannato da Fufflix Pierre The President Clans Lorenzo Rosa Stefano De Lucchi Andre Mario Trufflix questo sarà l'account no come presi niente ma come presi niente admin ma come presi niente admin scusa sì Mario no questi non sono Zabba no sono utenti Super Z Super Z non so se è veramente lui Zanoni Manfredo Giorgi a tutti questi nomi Manfredo non sono assolutamente lui Monte Zemolo bellissimo admin è il nome sì sì proprio alla anagrafe Giovanni Berga qualcosa Mirko Apriliano ma perché hanno tutti sti nomi strano ma lui se ne sarà accorto che l'admin non lo so ma evidentemente c'è admin il presi niente con l'immagine è bellissima e il commentino qui mi ricorda qualcuno il commentino effettivamente Bartolomeo Panzer cosa sono queste statistiche i commenti argomenti visualizzati eh no mi sta a giletti non ho mai scritto Bartolomeo Panzer top Germano Milite quindi c'è anche Germano Milite dentro Roberto Paragone Truffato G Simona Fantastic Esch Caporizzi Licio De Bernardi ok questi non gli utenti beh comunque insomma big strido peccato non c'è oggi effettivamente signor Barto signor Barto eh beh giustamente ovunque lui sembra una presa per il culo a SAB i membri hanno gli stessi video gli stessi i nomi siano gli stessi video del CERB sotto non so più leggere gli stessi sotto i video del CERB mamma mia adesso io voglio spulciare tutto questo è un argomento informazioni statistiche del sito me lo voglio scorrere tutto adesso distintivi distintivi autobiografo bello ha segnato a chi? a The President Club autobiografo ai 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 che coglione autobiografo aia aia questo distintivo viene assegnato per aver compilato il tuo profilo utente e dopo ah no aspetta No vabbè Ciao Mi chiamo Mattosava E sono l'idiatore di The President Club Praga Beh top biografia insomma Con link a The President Club blog Vediamo altri Ma lui è un meme Ormai ragazzi Parliamoci chiaro E' un fallito da un punto di vista Perlomeno mediatico Dei suoi soldi E ormai Questo gli è rimasto Nelle chat di Paoletto Spartano Quella gente lì Bartopanzer, Luca King A cercare di farsi notare Sono in riunione Questa qui me la compro E poi in questi gruppetti Capito Questo è il grande milionario Matteo Saba che avrebbe dovuto far tremare Tutta Twitch Con le sue due diligence Capito Questo è rimasto Questo è quello che Questa è l'immagine residua Diciamo Capito L'immagine residua Di un uomo Che ha fallito in tutto Che pensava di essere arrivato E di stravolgere la piattaforma Quando si faceva i suoi 600 spettatori Si è Illuso Di aver preso per il culo tutti E poi purtroppo Per colpa nostra Si è preso una bella inculata Io Posso dire una cosa E' nella top 10 Delle cose Di cui sono fiero Di aver fatto Nella mia vita Non dico nella top 3 Perché Ci sono cose Molto più importanti Che ho fatto Di sbugiardare Saba Però è nella top 10 Delle cose Che sono contento Di aver fatto Il SabaGate È stata E un Come ho detto Il SabaGate Era chiaramente In collaborazione Col Cerbero Però E diciamo L'avevamo iniziato Io e il Buon Palle Soprattutto Palle Aveva raccolto Tutti i dati Insomma Palle Aveva fatto Un grande lavoro E Sono Devo dire Sono fiero Sono fiero Aveva illuso Anche No no ma certo Ma io non mi dimentico niente Ma assolutamente Però io dico Poi dopo Fortunatamente C'è Il lavoro Che abbiamo fatto Dopo è stato Ma assolutamente Illuso Diciamo che io Quando mi sono approcciato A lui Non avrei mai immaginato Ma anche il Cerbero Lo invitava come ospite Ve lo ricordate Che è stato ospite In più live del Cerbero Nel senso Un sacco di canali Non solo il Cerbero Anche tanti Ah Omi Da Gab Ovunque Finché Finché è riuscito Ci ha preso un po' Per il culo Ma io lo so Quello è l'unico Diciamo Sono Come si dice L'unico Come si dice Come viene la parola Comunque sia Mi spiace Per essere Per il culo Però comunque Il problema del Presidente È che Da pelato Ma non è pelato È rasato Non crucio Volevo dire Il mio unico Rimprovo Non rimprovo Un'altra parola Vabbè non importa Diciamo che mi dispiace Avergli dato Anche quel poco spazio Che gli ho dato Ma vediamo altri distintivi Scusate Linea in guida letto Vabbè non ci interessa Prima emoji Non mi interessa Prima Non mi interessa Prima One box Ha inserito Quellamento Che ha generato Una one box Cos'è? Pierre Bravissimo The President Club Anche il commentino Germano Milite Complimenti Una one box Non so cosa sia Una one box Primo mi piace Primo collegamento Prima segnalazione Vediamo Vediamo se è lui È lui Questo distintivo Ha segnato La prima volta Che segnali un messaggio Signalare Il modo in cui Tutti noi continuiamo A mantenere questo posto Piacevole per tutti Bravo Bravo Matteo Giusto segnalare Lo faccio anch'io Ha usato 50 Presente Per dieci giorni consecutivi Vediamo chi è Vediamo eh Vediamo chi è stato presente Non si può aprire? Tutte le volte mi fa rito Deve vederlo Dieci giorni consecutivi Attivissimo Il presidente Milano istitutivo Non poteva Milano istitutivo Non poteva ricevere Assolutamente Benvenuto Grazie Piacevole condivisione Promoter Vediamo chi è promotore Ah no Solo tu Peccato Qua sono rimasto deluso Pensavo Campione Campione Ah non c'è nessuno Campione Nessun campione Vabbè Comunque Posso dire Il caro White Alpha La sa molto bene Cosa Mi sono perso Vabbè Comunque Ragazzi Questo era il quantum Come direbbe lui Quello che vi dicevo prima In conclusione Volevo dirvi questo È fondamentalmente questo Cioè Questo è quello che è rimasto Quest'uomo Io Penso che Io penso che Questo sito L'abbia fatto lui O comunque Chi per lui Magari l'opinionista Scalza Quell'altra lì O altro Non so se un uomo Una tonda Che gli va dietro Quindi nel senso Alla fine E ovviamente Cioè Può prendere per il culo Che vuole Noi abbiamo scherzato Abbiamo fatto fine No assolutamente Però è evidente Che si è creato lui O comunque che gli ha creato È un lantro Del rosicone D'altronde ragazzi Io Mettendomi nei suoi panni Anche se faccio abbastanza fatica a farlo Però mettendomi nei suoi panni Effettivamente Cioè ma sapete cosa vuol dire Grazie mille Ede Grazie per i due mesi E Effettivamente mettendomi nei suoi panni Raga ma Sapete cosa vuol dire Che tu passi da Perché lui Ha iniziato No Sarebbe figo fare un documentario Cioè aveva avuto quest'idea Il buon Zanoni Poi chiaramente ci vanno i fondi Ci vanno Però sarebbe veramente figo Lui è iniziato No è entrato Nel giro In quella live di Omnitor Dove è blastato Quindi cosa ha fatto Lui se l'è presa col più debole Fondamentalmente Cioè Riccardo Rosario Una cosa che Cioè presa Ne so anche io Ho fatto le inchieste su Riccardo Ma lui ha Nel senso Ha utilizzato Riccardo Per avere Un facile consenso Perché è chiaro Aveva ragione con Riccardo Abbastanza semplice Poi lui arrivava Nessuno sapeva chi era Era uno che diceva Che avrebbe fatto Una Come si chiamano Quelli che in interesse Possono fare Una class action Che avrebbe fatto La class action Che tanta gente Aveva segnalato A lui Riccardo Che avrebbe messo Lui soldi Per una class action Con suo team di avvocati Che lui era un truffatore Che sarebbe stato beccato Eccetera eccetera No? Proprio Netflix non farà mai Ragazzi Però Potremmo fare una roba Produzione nostra Quello sarebbe figo Però ci vanno i soldi Comunque Comunque Al di là di questo Quindi fa Atta arriva con quello Chiaramente Prende consenso Compreso la mena Che io quando vedi Quella live Perché lo invitai Io la prima volta in live Perché io mi stavo Occupando di Riccardo In quel periodo Era il periodo Pokemon E lo invitai in live Perché lui Mi parlò di questa Class action Ho detto Sarà vero Il buon palle uomo Che C'ha l'occhio lungo Già all'epoca Disse che era una stronzata Però io ho detto Vabbè lo invito in live Vediamo Cosa da dire Cioè che cosa stai Io l'ho invitato Per parlare di Riccardo Nel senso Lui si è risposto Contro Riccardo Ho detto ma Veramente stai Preparando una class action Veramente stai facendo qualcosa E lui chiaramente Mi confermò tutto Eccetera E Da lì in poi Lui diventò Chiaramente poi Venne invitato Anche in altri canali Diventò sempre più virale Apri il suo canale Cosa che tra l'altro Anche lì Palle uomo Mi mise le palle in testa Perché io Dicevo ma no Ma secondo me Non apriva mai il canale Perché dovrebbe farlo E' uno che dice Che c'è i soldi Che fa cose Non potrà mai avere tempo Per fare Twitch C'è la ragione Palle uomo Entra E fa il suo canale E ha un discreto successo Perché chiaramente La gente lo vede da Omiettel Lo vede Poi magari Non mi ricordo Gabrone forse è stato un po' dopo Comunque vede L'ho invitato io L'ho invitato il Pippega Quindi comunque Chi segue quel tipo di format Lo vede Lo inizia a seguire E lui inizia questo format Delle due diligence Dove praticamente lui Pluri pregiudicato No ai tempi Nessuno di noi lo sapeva Neanche palle uomo Cioè nessuno Neanche chi Stava sul cazzo Nessuno lo sapeva Inizia a fare State due diligence E da lì Poi chiaramente Quando becca Germano Lì fa il più grande errore Della sua vita Germano Che è del mestiere Inizia un po' a indagare Su di lui Ed è venuto fuori Poi tutto Però fondamentalmente Questa è stata La sua carica Quindi dalle stelle Capite Da Invitato da Omiettel Nel suo canale Faceva anche 600 Spettatori Adesso non mi ricordo Dice di essere arrivato Anche Mille Sabbi Adesso non so Comunque In live dal Cerbero A che poi La sua immagine pubblica È stata demolita Ma da noi Nel senso che noi Abbiamo semplicemente Portato quello che lui ha fatto Sì le quattro Ferrari Pronto Montezemolo Eccetera Però quello che volevo dire Capito Nel senso alla fine Si è demolito da solo Cioè si è messa a fare Era Era un Il lupo Travestito la pecora Capito Ma prima o poi Poi esce fuori Che sei il lupo Così 1900 Sabba Tutte donate E purtroppo Da chi poi È stato anche fregato Da lui Nel senso che Ragazzi Nico Nico Dallaglio Che adesso Di nostra conoscenza È quello che Ha mollato più soldi Purtroppo Era un grande Sostenitore di Sabba Cioè ha imbrogliato Tanta gente Anche gente Come Nico Dallaglio Che vi assicuro Che non è un coglione Assolutamente Però sai Era Bisogna dire Delle skill E delle skill Ce le ha Ma quindi Pipega E Chiruccia Non l'hanno in cula Quella storia Alinea Che l'hanno inculato La sciampera Non mi fa tirare fuori Mamma mia Che adesso Mi vengono in mente Veramente È stata un'avventura Incredibile Pensa che io l'ho conosciuto Dalla live di Ivan Grieco Anche da Ivan è andato Ma è andato in tanti canali Mi ha fatto fare E mi ha fatto fare Una figura atroce Un imprenditore Che parla Della doppia moneta In Cecchia E che dice Che se non vai a puttana Non sei un uomo Non è top Aveva detto quella roba lì Oddio non me lo ricordo Lo conosci nello sotto bosco di Sabba Sta sempre da Bartopanza Ma certo che lo so Julius Io Purtroppo Cioè purtroppo Purtroppo per fortuna So tutto Nel senso che Mi vengono dette le cose Sennò io so Vita morte miracoli Di quello di cosa fa So tutto Non cosa fa La sua vita privata Ma se gira sul web La notizia mi arriva Quello è poco ma sicuro Pippega Doveva sentare il telefono Per le live Ma quanto era venuto Poi fuori alla fine Pippega Quello lavoro L'aveva fatto Poi magari Non l'aveva fatto bene L'ha fatto la pippegata Però Insomma Edello ma stai bene Di un botti Relativo sputtanatore Tutto e tutti Sì anche quello Vergognoso Quel babbo di Bartopanza Non ha nessuno Ma non insultate Non insultate Julius Non insultate nessuno Bartopanza È tutto tranne che babbo Ragazzi Sono solo illusi Sapete Questa è la cosa Cioè io l'unica cosa Che ho da dire Ma non su Bartopanza Su qui ancora Gli da Anche quel Cioè io Voglio dire Al di là del lavoro Che faccio Chiaramente noi ci occupiamo Anche di questo Abbiamo fatto un'inchiesta Abbiamo fatto due volumi Di Gate Su di lui Anzi Alla fine di più di due La cosa che a me Spiace Veramente tanto Di queste persone È che tanto lo fanno Avranno un secondo Cioè alla fine Gli stanno solo Lo sfruttano in qualche modo Per cercare di Perché se no Io voglio dire Ma io anche facendo questo mestiere Ma io uno come Matteo Sava Se so quello che ha fatto Ma io non gli rivolgo Neanche la parola Cioè so che Deve 26 Più di 26.000 No 26.000 Al gabbrone Gli altri che hanno Le cose sono pubbliche La gente lo sa Cosa pensate che Bartopanza Non sa Per quello che è uscito Sono che quelli come lui Quelli che può dare Dicono Ma a me non mi interessa Capito Invece uno come Sava Deve essere Cioè il suo nome Cioè il nostro obiettivo Ma non perché siamo cattivi E perché è una persona Pericolosa Ok Perché avvicinarsi a lui È pericoloso Perché lui Tutti quelli che si sono avvicinati Che noi conosciamo Dico tutta la vita Tutta la sua vita Ma quelli che noi conosciamo Ha cercato di fotterli Per cui Capito È un uomo che Su internet Non deve avere vita Cioè su internet Deve Non deve trovare spazio Capito Per quello dico Che secondo me Anche loro Ho capito Tu non fai Non fai il nostro format Non ti occupi di quello Voi fate live Irla Dove Vabbè Ascian perdono Mi fate commentare Cosa fanno Ma Comunque Quell'uomo Ha fregato dei soldi A un vostro collega Il gabrone Tra l'altro anche del vostro settore Perché anche il gabrone fa rirla Ma come Come potete Veramente avere le palle Di tenervelo in chat Capito Quello che voglio dire Cioè quello Poi Io Questo è il mio giudizio Facciano il cazzo che voglio A me Se loro Se vogliono tenere Questo qua in chat Ma se lo tengono Però io Io dico sempre Boh Ma come fai Cioè non riesco a capire Con quale morale Riesci a tenere in chat Uno che sai Che è uno che ha truffato Più di 20.000 euro A un vostro collega Alla fine Il gabrone Io non dico per il resto Cioè adesso non me ne ha fatto un cazzo Ma almeno del gabrone Non me ne frega un cazzo Infatti il gab Con Luca King Con altri Ha anche litigato Dove diceva Io sinceramente Di stare in Alai Dove c'è quello lì Che scrive Che mi deve 26.000 euro Ma scusate Cioè ma veramente Cioè io non è che dico che Se non lo bannano Sono complici Ma ci mancherebbe altro No Semplicemente Mi viene a dire Ma non avete la morale Perché non ha fregato loro Ma certo Spera Asatto Il bondino Aspetta Se mai fregasse uno di loro Voglio vedere Perché loro sono Loro sono una setta Altro che Fufflix Io sono scandalizzato Più dal fatto che Giustizia Ordinaria non sia ancora Mossa Ma che pesi siamo Ma brillo State tranquilli Si sta muovendo Con i tempi Che ha la giustizia Io Su alcune cose Sono un po' aggiornato Però Giustamente Mi è stato chiesto Non parlarne online Ma non vi preoccupate Che la giustizia Non Sta procedendo Sta procedendo Poi come andrà a finire Non lo so Però state tranquilli Che non è vero Esatto I tempi in Italia Sono lunghi Ma vi avevo già detto Che Fonti certe E dirette Mi hanno detto Che stavano muovendo Molto più veloce Del solito Molto più veloce Del solito Vuol dire Non lentissimi Un po' meno lenti Diciamo così Però vedrete Non vi preoccupate Io sono molto fiducioso Che Con i tempi Che ci saranno Prima o poi Pagherà Per quello che ha fatto Non vi preoccupate Va bene ragazzi Tanto sabato Non racconta in Italia Cosa li prendono Nulla Ma guarda Ma non è una questione Solo di C'è capito Di toglierli tutto Una questione Proprio che Deve pagare Punto Ma non pagare Per questo Pagare Deve essere C'è Un tribunale Devi riconoscere Che lui ha fregato Della gente A me basta Per me A me basta solo quello A chi deve i soldi Giustamente vorrebbe Anche indietro i soldi E li capisco Ma a me Personalmente Il mio interesse Egoistico Non so come spiegarvi A me basterebbe quello Per chiudere Tante bocche Punto No E' già successo Niente Perché poi Alla fine Come vedi Cioè Se veramente Cioè La sua immagine pubblica Noi l'abbiamo distrutta Nel senso Abbiamo fatto vedere Chi cazzo era questo Però lui ancora è lì Twitch l'ha sbannato Io non ho capito Perché Twitch l'ha sbannato Non ho mai capito Perché Twitch l'ha sbannato E ha tenuto 4 anni Bannato C'è assurdo Thank you